Questo è un cacciamine della Marina Militare che si occupa fondamentalmente di bonificare aree marine dove c'è presenza di mine navali, però può essere impiegata anche per effettuare ispezioni di cami fondanti sulco marine piuttosto che la ricerca di repetti archeologici. In particolare in questa attività noi spesso facciamo collaborazioni con altri ministeri piuttosto che la magistratura italiana. Per fare questo tipo di attività adesso vi farò vedere il guide da praticamente dispone di un sonar che è in grado di essere filato fino a 270 metri e poi vedrete alle vostre spalle due veicoli che sono filo guidati ed hanno la possibilità di ispezionare i fondali fino a 600 metri, questo è giusto per darvi un'indirizzo iniziale.